Eccoci a questa escursione al Monte Barbaston. Il Monte Barbaston si trova nell'inverso all'inizio della Val d'Aosta, Traverles et Châtillon. Ecco qui il percorso, partendo da Covarey che è frazione di Champedraz nel Parco Naturale del Montavic, si sale al Colle di Val Meriana e poi in cima al Barbaston. Per non scendere dalla stessa parte noi abbiamo fatto un giro d'anello facendo questa lunga cresta che va verso la punta Lian e poi scendendo nel bosco per tutto altro percorso si ritorna al nostro Covarey. Il GPS lo trovi in descrizione. Eccoci qui all'ingresso del Parco del Naturale del Montavic all'inizio del Comune di Champedraz. Qui siamo a Covarey. Lì davanti a noi il Monte Avic. Il sole sorge là in fondo. Il Monte Avic ci accompagna per lungamente lungo l'escursione. Eccolo qui il Monte Avic in alcune fotografie. D'altronde da questo Monte prende il nome il Parco Naturale del Monte Avic. Questo è tutto il ballone del Parco Naturale dove abbiamo anche messo i nomi a qualche montagna di me di intorno. Finalmente vediamo la vetta del nostro Barbeston. Eccoli che indica la vetta. Saliamo al Colle di Val Meriana e lo sguardo si apre sulla Val d'Aosta. Un sguardo ampio sul Comune di sotto e sulle montagne maldostane. Saliamo la cresta che dal Colle va verso il Monte Barbeston. Qui siamo agli ultimi passi. Prima di vedere la Madonna che sormonta la vetta del nostro Monte. Una bella statua rivolta verso la Val d'Aosta che sembra proteggere con le sue mani allargate proprio tutta tutta la regione. Qui siamo alla foto di Rito davanti alla statua della Madonna. Dalla parte verso il Parco del Naturale del Monte Avic ci sono tante nebbie che limitano un pochino la visuale. Invece dall'altra parte il riguardo è molto più ampio sul Monte Rosa, il Servino, la Grand Convain e in fondo nelle nuvole il Monte Bianco. Più vicino a noi qui il Monte Rubic e poi la Vic. Ecco qui i nuovi. Monte Avic e Monte Rubic. Girando un po' di più il Monte Bianco là in fondo negli Anzioras. Qui invece vediamo in particolare il Servino e qui in particolare vediamo tutto il gruppo del Monte Rosa. Da questa parte incominciamo a vedere il Monte Bianco che vedremo dopo. Eccolo qui Monte Bianco di più in basso faremo questa cresta che ci congiunge verso questo Monte. Ecco qui di fatti scenderemo tutta questa lunga cresta che ci porta al Monte Bianco che dà un altro sguardo sulla Val d'Aosta. Andando avanti ci voltiamo indietro e vediamo il Barberstone con la Madonna. Sempre il Barberstone più lontano. Stiamo ancora allontanando lungo la cresta. E siamo sempre più lontani la cresta che sale al Barberstone. Eccolo lì il Monte Barbestone e in fondo il Monte Alic. E qui siamo sempre col Barberstone ormai sulla punta Lian. Ecco qui agli ultimi passi fatti per arrivare in vetta a questa punta Lian. L'altezza non è grande, 2.100 metri, però c'è un bel panorama. Difatti uscendo dagli alberi lo sguardo si allarga sulle montagne valgostane. Eccola in fondo il Monte Rosa. E sotto di noi i comuni valgostani. Ecco qui il Monte Rosa c'è il buco dagli alberi. Invece qui sotto della Val d'Aosta in fondo c'è Verres e poi là si esce sulla pianura pimentese. Scendiamo per i boschi dalla Punta Lian. Ci sono i colori dell'autunno con i larici. E finalmente arriviamo a Cover High dove c'è di nuovo il nostro Monte Alic. O Valet dove abbiamo lasciato l'automobile. Partendo con l'automobile ci saluta la Luna che appena sorta in quel momento. Grazie a te sei venuto a vedere questa breve escursione. Grazie a te buona giornata. Ciao, ciao, ciao.